video, ecco intanto lo salutiamo Renato Biondini, buonasera Renato, buonasera a tutti, eccoci qua anche la tua voce si sente perfettamente, dicevo questa sera però è in veste di ricercatore, di storico, d'altra parte lui ha un curriculum molto interessante da questo punto di vista perché noi abbiamo avuto modo di ascoltarlo anche in altre occasioni proprio per questa sua passione per la storia, mi sembra che ultimamente lo abbiamo fatto proprio in relazione alla lotta partigiana qui nel Maceratese o comunque come è avvenuta la liberazione nella nostra provincia, ho fatto una tesi di laurea all'università di Macerata, un libro, altri libri di storia tu li hai pubblicati pure, sulla storia di sorgimento la battaglia di Castelfidardo 1860 ma anche altri lavori e saggi articoli per riviste specializzate. A proposito della battaglia di Castelfidardo poi magari lo metteremo anche sul nostro sito, avevamo ripreso qui il generale Terenzio Morena che aveva fatto questa relazione sulla battaglia di Castelfidardo in un incontro pubblico dell'università permanente di Recanati e avevo curato anche la parte video di questa sua relazione quindi sarebbe interessante magari un giorno sapere anche da De che ha fatto questa ricerca storica alcune particolarità di questo avvenimento storico appunto. Allora questa sera di cosa parliamo? Parliamo di un argomento bello, affascinante, parliamo della morte di Benito Mussolini, parliamo dell'oro di Dongo che non si sa dove sia finito, parliamo del carteggio che c'è stato, Cerci, le Mussolini ma di cui pure non sia traccia, come non si sa appunto granché in maniera definitiva come in realtà sia morto Benito Mussolini. Abbiamo la versione del suo assassino, diciamo così, giustiziere come qualcun altro lo vorrebbe chiamare e definire, sia di Mussolini che della sua compagna Petacci. Ma il nostro Renato Biondini vuole che questa verità su questi tre argomenti, tre fatti che vi abbiamo annunciato, sia fatta dopo 70 anni, non si vede perché non si possa raggiungere una verità storica precisa, perché noi abbiamo la versione appunto di chi ha portato Mussolini sulla sua macchina, che lui l'osservava dal cofano, dice, della macchina per non perdere di vista, e poi ha raccontato gli ultimi momenti, l'arma che si inceppa, la pistola che si inceppa, ricorda... Il mitra, il masse, il masse, il masse, e poi però descrive Mussolini come una persona quasi paurosa, quasi vile, quasi tremante, nonne quindi non lo fa morire da eroe, diciamo così, lo vuole far morire da canetto come lui l'ha definito, è un piccolo cane, è una cosa un po', un po' diciamo, non del tutto piacevole, no? Allora Renato, tu che hai seguito, hai fatto delle ricerche, no? Sei venuto a capo di qualche cosa oppure sei sempre nella ricerca di trovare questa verità? Allora, io come hai detto ho diverse passioni, la politica ma anche la storia, mi hanno sempre appassionato i vari misteri politici italiani, no? Il classico, il caso Ustica, il caso Moro, la strage di Bologna il 2 agosto 1980, di cui domani ricorre il 28esimo anniversario, però ragionando e pensando mi sono detto ma qual è il primo mistero di questa nostra Repubblica italiana? e studiando le carte ho scoperto che la morte di Benito Mossolini, della sua amante Claretta Petacci con gli eventi che tu citavi collegati, l'oro di dongo, il fantomatico carteggio tra Viston Cerce e Benito Mossolini questi tre fatti collegati ancora non c'è una verità chiara, no? Anzi, secondo i miei studi e miei ricerche la verità ufficiale che si è tramandata non è la realtà vera di come sono successi i fatti io ecco, il mio lavoro tende a sensibilizzare la cittadinanza, l'opinione pubblica, le istituzioni ma anche tipo le istituzioni storiche che studiano la storia, l'esistenza sull'importanza di rivedere queste vicende e chiedere e di cercare la verità perché secondo me, ma secondo anche altri, è stata tramandata per comodità una verità chiamiamola ufficiale che però dopo 70 anni non regge se subito dopo la guerra aveva un senso per i vari delicati equilibri internazionali e interni no, dopo 70 anni, visto che sono passati anche i termini di segreto dei 50 e 70 anni credo che l'Italia abbia il diritto di conoscere la verità su questi fatti che secondo me sono importanti perché riguardano la fine proprio del fascismo e preludono alla nascita democratica nel nostro paese quindi sono secondo me fondamentali allora, per capire questi fatti volevo fare una piccola premessa su un'estrema sintesi della seconda guerra mondiale noi entriamo in guerra il 10 giugno 1940 con il famoso discorso di perito Mussolini a piazzale Venezia dal balcone di Palazzo Venezia quando la Francia sta per capitolare lui dichiara la guerra alla Francia e all'Inghilterra quando appunto già le armate tedesche hanno sfondato il fronte e stanno arrivando a Parigi quindi sembrerebbe che Mussolini entri in guerra a fianchi chiaramente della Germania per sedersi al tavolo della pace e come vincitore sembrerebbe il motivo ma questo non è o non è forse solo questo il motivo per il quale Mussolini entra in guerra e lo vedremo allora, un altro fatto anche perché sconfitta la Francia rimaneva a sconfiggere l'Inghilterra l'idea tedesca era quella di invadere l'Inghilterra e porre fine alla guerra però per invadere l'Inghilterra si doveva avere il predominio dell'aria ci fu la classica famosa battaglia d'Inghilterra aerea però gli inglesi vinsero e Hitler non poté invadere l'Inghilterra a questo punto Hitler si rivolse ad est e il 22 giugno del 41 invase l'Unione Sovietica però questo attacco fulminio si fermò alle porte di Mosca quindi i russi riuscivano a bloccare l'avanzata di Hitler ma la data fondamentale della seconda guerra mondiale secondo me è l'attacco giapponese agli stati indi d'America alla base aeronavale di Pelarbur il 7 dicembre 1941 dove l'America entrò in guerra col suo enorme potenziale bellico e militare e non solo di uomini sta di fatto che già subito dopo un anno e mezzo le sorti della guerra si capovolsero grazie non solo agli uomini militari americani che andarono su tutti i fronti di guerra ma soprattutto grazie ai mezzi e tecnologie fornite dagli americani su tutti i fronti di guerra e anche in Africa per esempio nel 43 i tedeschi e italiani furono ributtati in mare come si dice il 10 luglio del 43 invasero la Sicilia e riporso la penisola per liberare l'Italia a quel punto visto i disastri militari il Gran Consiglio del Fascismo sfiducia Mussolini il 25 luglio del 43 il re nomina Badoglio capo del governo Mussolini viene arrestato ma la data fondamentale e tragica dell'Italia non fu il 25 luglio ma l'8 settembre del 43 dove Badoglio annuncia l'armistizio per radio quindi praticamente ci fu un caos generale praticamente le truppe italiane si arrendono gli anglo-americani quindi i nemici di prima diventano amici e gli amici di prima diventano nemici un caos generale l'esercito si sbanda i soldati non sanno che fare e molti perché non volevano più combattere si rifugiano nelle montagne e diventano dei partigiani e dei ribelli poi che successe che Mussolini fu arrestato appunto e portato a campo imperatore nel Gran Sasso venne liberato da dei paracadutisti tedeschi portati in Germania e nella parte nord occupata dai tedeschi si formò uno stato chiamato Repubblica Sociale Italiana con a capo Bonito Mussolini ma in qualche modo era un fantoccio al comando di Hitler e le forze anglo-americane chiaramente che riservono la penisola a liberarla veniamo all'estate alla primavera del 1945 dove le forze anglo-americane sfondano la linea gotica quella che da peso arriva alla Spezia penetrano in pienura padana e Mussolini che aveva il governo a Salò visto che Salò era abbastanza vicino al fronte parte per Milano con il suo seguito i suoi gerarchi cerca di fare un trapasso di poteri con i partigiani invece la parte di Normandia nel frattempo era 6 giugno del 1944 quindi è avvenuta l'anno prima e quindi un motivo per il quale l'avanzata anglo-americana andò piano in Italia è perché si aprì il fronte più importante nel 1944 in Francia e quindi anche in Italia ci fu meno forze e meno motivo per spingere per andare verso Nord allora Mussolini ha tentato di fare un trapasso di poteri attraverso la mediazione della chiesa milanese però non ci riuscì a quel punto dovete fuggire con i suoi gerarchi i suoi aiutanti partì da Milano la sera del 25 aprile e andò verso Como il primo tappo è Como sul lago di Como che era diretti svizzero a lui allora lui non aveva le idee chiare una sua idea era quella di rifugiarsi in Valtellina e attraverso i suoi militi fare un'ultima resistenza contro le forze anglo-americane però le forze che lui aveva a disposizione erano molto limitate l'altra ipotesi era che voleva fuggire a Svizzera o addirittura andare in Germania quindi questa sua colonna arriva a Como poi prosegue verso nord costeggia la strada della parte occidentale del lago e va verso nord in questo tragitto viene aiutato perché incontra una colonna di tedeschi che lo supportano per in qualche modo aiutarlo perché c'era il pericolo erano tedeschi ritirati anche loro erano tedeschi ritirati c'era il comando tenente Flammeier quindi loro andavano in Germania a ritornare in patria e Mussolini era un aiuto perché in quella zona potevano imperversare ed esserci come c'erano i partigiani tant'è vero che il 27 aprile nella città di Musso questo convoio di tedeschi e italiani vengono fermati da un tronco messo sulla strada di traverso e quindi i camion i mezzi non possono passare ci fu una trattativa tra tedeschi e i comandanti della 52esima brigata caribaldi luigi clerici che era il gruppo partigiano di orientamento comunista che operava in quella zona l'accordo era i tedeschi possono passare italiani no questo era l'accordo i gerarchi fascisti e anche Garetta Petacci che si era accodata a questa colonia di Mussolini perché come sapete era l'amante di Benito Mussolini e voleva seguirne la sua fine anche se tragica per il suo amore che aveva verso Mussolini allora c'era il dilemma dico ma magari salvati tu rivolto a Benito Mussolini infatti anche a malincuore lui prese un cappotto si comuffò da militare tedesco salì su un camion pensando di farla franca però i partigiani nella città successiva a Dongo in piazza fecero fermare tutti i camion li perquisirono bene bene e un partigiano riuscì a riconoscere Benito Mussolini e quindi venne arrestato insieme a tutti i gerarchi militari che erano già fermi a musso portati nel municipio di Dongo e la Petacci era con lui a questo punto però lì a Dongo c'era un insieme di persone che potrebbero essere anche pericolose andare via nel municipio allora visto che Mussolini e Petacci erano come dire ingombranti e c'era il pericolo e Mario qualche fascista faceva un'operazione di salvataggio si cercò di nascondere Mussolini in un altro luogo più sicuro all'inizio venne portate una casermetta della guardia di finanza Germasino pochi distanti da Dongo un po' all'interno però lì ci stette poche ore e insieme a Calaretta Petacci anche lì che volle andare insieme a Mario Mussolini venne portato a Casa De Maria che era una grande casa a Bonzanigo di Tremezzina piccolo paese sempre vicino sul lago di Como questa famiglia era di fiducia di capitano Neri Luigi Canali che era capo di stato maggiore della 52esima brigata Garibaldi e conosceva bene il territorio e conosceva questa famiglia come persona di fiducia quindi nella notte tra il 27 e il 28 aprile alle 45 Mussolini e la Petacci vengono portati in questa grande casa e nascosti in una camera una camera da letto e davanti messo a guardia due partigiani Sandro e Lino questo è il nome di battaglia perché una volta si usava il nome di battaglia possiamo dire che il resoconto storico è abbastanza preciso questo è preciso insomma tutti concordano su questa versione adesso invece parliamo di due fatti collegati e su cui nascono le diete prime allora per esempio dicevamo di questo oro di dongo allora questa colonna prendi il nome dal paese dove si dove è fermato Mussolini e arrestato insieme a tutti i gerarchi no? allora la colonna di Mussolini nella sua fuga portò si portò dietro dei valori enormi costituiti prevalentemente dal fondo riservato della Repubblica Sociale Italiana cioè dello Stato della Repubblica Sociale Italiana no? erano oro addirittura anche anelli di fedi perché non so se magari ti ricordi ecco per portare avanti la guerra si chiedeva le fedi alle famiglie alle donne ma anche lire chiaramente ma anche valuta straniera Franchi Svizzi Ristellini eccetera ora l'ammontare tutti questi valori non si è mai stabilito con certezza anche perché si è sparito no no dopo vedremo perché una parte magari può essere stato preso diciamo lasciato lì preso dai cittadini del luogo una parte magari portato via dai tedeschi però la maggior parte venne preso dai partigiani della 52esima Brigata Garibaldi Luigi Clerici portati al municipio di Dongo e inventariati e inventariati quindi ci fu proprio un inventario dei valori tutti questi valori recuperati trovati in queste macchine autoblindo al sedio di Mussolini venne incaricata in particolare la partigiana Giuseppina Tuissi detta Gianna che era la compagna del capitano Neri Luigi Canali di cui abbiamo accennato prima quindi lei ammassò tutti questi valori che appunto banconote oro eccetera nel municipio una grande sala del municipio di Dongo fece l'inventario tutti questi beni l'inventario poi si è perso però il comando il comando della 52esima Brigata Garibaldi Luigi Clerici chiese a Giuseppina Tuissi di portare tutti questi valori attraverso una macchina alla sede della federazione del partito comunista di Como con a capo Dante Correri questa è un qualcosa diciamo che è appurato da testimonianze da ricevute di diversi diciamo protagonisti di quelle vicende ora da lì che fine abbia fatto questi valori allora si pensa alcuni pensano che visto l'organizzazione del partito comunista così schematizzata con sedi sparse in tutto il territorio italiano ma dal punto di vista molto gerarchico organizzato tutti questi valori sono andati poi alla sede centrale del partito comunista italiano questa è un'ipotesi che gira sarebbe stato il più ricco partito del mondo però per esempio degli elementi che possono qualche modo avvalorare questa questa ipotesi c'è il fatto che subito dopo la guerra il partito comunista intanto acquista la sede del bottego scuro a Roma questi utilizzatori potrebbero essere utilizzati per l'acquisto della tipografia e stampare l'unità e organizzare tutte queste sede territoriali sparse in tutta Italia delle sede del partito comunista delle federazioni territoriali ora chiaramente questa è un'ipotesi un'ipotesi però io ritengo che su questo si sono scritti i filmi di inchiostro inchieste giornalistiche televisive quest'oro di lungo non si sa che fine abbia fatto ora io ritengo che anche qui c'è bisogno di un'operazione di verità chiaramente non è che si va a colpevolizzare il partito comunista perché bisogna comprendere il contesto d'altronde il partito comunista è quello che ha svolto un ruolo prioritario nella resistenza italiana però credo per un'operazione di trasparenza e di verità forse è opportuno magari qualcuno che sa magari dire effettivamente questi valori sono stati incamerati il partito comunista per fare questo e quell'altro eccetera eccetera questo è la questione in sintesi dell'oro del mistero l'oro di lungo ma tu nelle tue ricerche hai un'idea di come sono andate le cose? è questa è questa che sto dicendo no dicevo nel momento stesso però in cui tu hai approfondito questo aspetto hai tirato la conclusione che allora questo oro ad appropriarsene è stato il partito comunista e a utilizzarlo per quelle cose che ti dicevi quindi non è una ipotesi diciamo così che è frutto diciamo così di un tuo intuito comunque come si può dire vai al naso da ricercatore studiando i documenti studiando i libri leggendo dei documenti perché in realtà questo oro passando penso di mano in mano c'è stato pure chi l'ha inventariato anche se poi questo è andato perduto questo elenco dei preziosi che sono stati rilumerati no sia la quantità di monete di lire di monete estere e così via di valuta estera sia dell'oro proprio certo certo c'è l'ingotti loro così via ecco tutto questo è possibile che nessuno dei testimoni abbia mai parlato abbia mai detto una parola infatti adesso terminavo il discorso mi ha mai suggerito perché mi stavo dimenticando allora molte delle persone protagoniste di quelle vicende e che sapevano che fine ha fatto questo chiamiamolo oro i dongo tutti questi valori nel dopoguerra sono scomparse misteriosamente allora qui siamo qui allora per esempio Luigi Canali no uno dei comandanti della 52 sono barricate Garibaldi scomparve i primi di maggio non si sa che fine abbia fatto o meglio qualcuno ipotizza l'ipotesi però non ci atrendiamo su queste cose che serve troppo lungo spiegare per scomparsa diciamo fuga o per scomparsa diciamo morte 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 scomparsa intendevo ecco che sì da magari fuga all'estero no 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 ecco hai fatto bene a domandarlo perché allora l'ipotesi è che è stato ucciso da qualcuno no adesso non possiamo dire chi ma la stessa Giuseppina Tuissi con lei che ha inventariato tutti questi valori muore muore anche lei o meglio scomparve la versione ufficiale è che lei voleva sapere che fine ha fatto il suo compagno il capitano Eric Canali Luigi Canali e quindi è stata uccisa anche lei ma anche altre persone tipo una confidente di Giuseppina Tuissi lo stesso scomparve probabilmente uccisa e si dice che poi molte persone che sono state uccise in questo riva del lago sono state poi buttate dentro al lago al lago perché in alcuni punti era molto profondo con delle correnti e quindi no era difficile poi ritrovare ripescare questi corpi tra l'altro un'altra cosa interessante per scoprire che fine abbia fatto questo cosiddetto oro di dongo e dei misteri in qualche modo collegati si aprì nel dopoguerra un processo negli anni 50 a Padova dove vennero chiamati anche importanti esponenti nazionali del CLN a testimoniare eccetera solo che i membri giurati diciamo uno di questi del tribunale insomma uno dei giurati si suicidò e questo processo insomma finì lì insomma non si riuscì più a ricostituire la giuria popolare e quindi insomma poi per prescrizione tutte queste persone che erano state in qualche modo indiziate se la cavavano tra cui c'era Dante Corrieri Dante Corrieri che abbiamo detto era il capo della federazione comunista di Como era stato accusato di essere il mandante dell'uccisione di Luigi Canali uno dei capi partigiani di questa 52 barricate cabal di Luigi il cleric ok quindi ci fermiamo un attimo qui per la questione del loro idongo poi se hai delle domande magari me le fai ma adesso volevo passare all'altra questione lo stesso secondo me è un altro mistero questo fantomatico carteggio tra Wiston Cerci e Benito Mussolini perché è importante allora intanto qualcuno nega che sia esistito però alcuni partigiani che catturarono Mussolini che aveva con sé sempre due borse di documenti segreti e importanti per lui che conservava sempre con sé dopo che aveva arrestato Mussolini sbirciando come si dice in queste in queste valigie vide che c'era una cartella intestata corrispondenza Cerci Mussolini quindi alcuni di questi partigiani che arrestarono Mussolini e che avevano poterono magari visionare velocemente queste cartelle videro che c'era questa cartella intestata corrispondenza Cerci Mussolini ora il contenuto di questa cartella la cosa conteneva questa corrispondenza non si può sapere però si può fare delle ipotesi queste sono veramente ipotesi che però ecco portate avanti da degli studiosi e qualche modo hanno una 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 validità per esempio sappiamo che Winston Churchill era un estimatore di Mussolini e nel pericolo che la Germania invadesse in quel periodo l'Inghilterra Churchill cosa fa? fa un accordo segreto con Mussolini dice tu entri in guerra al fianco di Hitler poi se noi inglesi perdiamo visto che tu hai un ascendente forte verso Hitler magari le pretese di Hitler verso l'Inghilterra magari vengono mitigate da te che magari in qualche modo ci aiuti no? questo era il motivo addirittura vedi? perché sapeva Winston Churchill che l'Italia era impreparata quindi l'apporto dell'Italia di fianco alla Germania effettivamente poi fu quasi nullo comunque adesso per capirci per capirci per capirci dall'altro canto però questi accordi segreti potevano essere utili anche all'Italia perché in questi accordi poteva esserci questo tipo di elemento se voi italiani perdete noi inglesi magari nei trattativi di resa saremo più benevoli cercheremo di non togliervi tanti territori eccetera quindi era un accordo che poteva valere in aiuto per entrambi le parti questo è da tenere presente poi c'è da tenere presente un altro fatto che verso la fine della guerra quando la Germania stava per soccombere ci furono degli incontri segreti tra emissari della Repubblica Sociale Italiana dell'esercito tedesco e anche degli emissari diciamo dell'Inghilterra per valutare la possibilità di mettersi insieme e sconfiggere l'armata rossa perché? perché Churchill da uomo navigato e anticomunista aveva visto che dopo la guerra ci sarebbe stata una contraposizione tra comunismo quindi Unione Sovietica blocco sovietico chiamiamolo e paesi occidentali che poi sono diventati Nato quindi lui diceva magari se riusciamo a sconfiggere la Russia mettendoci insieme distruggiamo subito il comunismo e non ci poniamo poi il problema della guerra fredda che poi c'è stata però questo accordo non ci fu anche perché gli americani non erano non erano d'accordo Allora un altro elemento che supporta questa ipotesi questo carteggio così compromettente per Churchill e per l'Inghilterra è che Churchill subito dopo la guerra fece dei viaggi in Italia ne fece tre uno a settembre del 45 poi nel 49 e 51 fece dei viaggi soggiorno lui con la scusa di dipingere il paesaggio ecco la persona ufficiale che venne a fare delle vacanze però secondo alcuni si ritiene che venne in Italia per recuperare questi carteggi così compromettenti per lui e per l'Inghilterra quindi attraverso chiaramente i suoi funzionari spie eccetera lui soggiornò infatti sulle righe del lago di Coma di Garda nel luogio appunto delle nostre vicende per recuperarti questi carteggi tra l'altro anche il Fio Randolph nel 52 fece un ultimo viaggio e si dice che incontrò alcuni esponenti del Partito Comunista per recuperare le ultime quindi anche questi naturalmente erano in mano al Partito Comunista allora ecco chiaramente c'è un'ipotesi perché essendo la 52esima brigata Garibaldi Luigi Clerici di orientamento comunista è evidente che le copie o una copia di questo carteggio corrispondenza così compromettente sia stata a finire al Partito Comunista che chiaramente erano documenti così scottanti però Cerci e Lusci sembra recuperare tutte le copie di questo carteggio però credo che conoscere il contenuto di questo carteggio se c'è stato come sembra è importante perché mette in discussione per riscrivere alcune pagine della seconda guerra mondiale per esempio il motivo per il quale si è montati in guerra sembrerebbe che in qualche modo dietro questo accordo non riesco a capire per quale motivo eventualmente se appunto questo carteggio è finito nelle mani del Partito Comunista degli altri esponenti anche in questa occasione non ci sia nessuno che abbia avuto la tentazione di rivelare questa verità diciamo così e poi perché non rendere pubblico il contenuto di questi carteggi naturalmente non era funzionale all'immagine che si doveva avere del fascismo di Mussolini certo sicuramente sì e poi c'è il discorso dell'oro di dongo questi tre elementi uccisione di Mussolini della Petacci oro di dongo e carteggio sono collegati perché se il Partito Comunista tirava fuori queste carte che poi in parte all'inizio del giornale Unità l'aveva pubblicata perlomeno quelle magari meno importanti dopo ha interrotto la pubblicazione di questo carteggio magari qualcuno poteva dire ma allora voi siete appropriati del loro e quindi tutti quanti ecco perché sembra ci sia un accordo generale per come dire affossare questa verità su queste vicende ecco poi arriviamo alla parte centrale ecco però su questo fatto della corrispondenza Churchill Mussolini se Churchill è venuto in Italia tre volte con l'obiettivo forse di recuperare tutte le copie e carte o c'è riuscito secondo te non lo so che se ne pensi oppure se ne è andato via a mani vuote sicuramente c'è riuscito ma allora perché eventualmente sia quello che Mussolini aveva spedito a suo tempo a Churchill e quello che Churchill aveva spedito a Mussolini quello che gli interessava a Churchill recuperare non si ha tracci in Inghilterra allora questo è infatti una domanda è una domanda perché chiaramente questi documenti come ti dicevo sono scottanti per per Churchill ma anche per la stessa Inghilterra perché insomma erano accordi segreti che vanno contro sono i bassi italiani ecco appunto che vanno contro la storia però qualcuno li costruirà in Inghilterra infatti questo mio lavoro questo mio lavoro serve anche a sensibilizzare io ho detto i cittadini le istituzioni ma insomma per chiedere la verità ma non può farne una richiesta ufficiale il governo italiano no non c'è nessun interesse allora su queste vicende io sono partito dal fatto dei misteri politici italiani perché non si sa la verità sul caso Moro e il caso Ustica perché si è apposto il segreto di Stato dopo 70 anni e appunto a maggior ragione dicono allora se il caso Moro e il caso Ustica diciamo relativamente recenti io dico queste vicende di cui stiamo parlando sono passati più 70 anni sarebbe opportuno no fare un'operazione di trasparenza e di verità ecco perché questo questo mio come dire voglia di ricercare la verità su questi fatti perché ormai sono passati tanti anni e si potrebbe no anche se magari sono documenti che inizialmente potevano essere rientrati in documenti diciamo segreti però dopo 70 anni magari si possono desegretare certo no tra l'altro si stanno desegretando anche alcuni documenti più recenti perché stavo sentendo oggi la discussione in Parlamento c'è un'interrogazione appunto parlamentare che chiedeva desegretazione di documenti e diventa quel periodo che va al 69 agli anni 80 quindi parliamo della strada di Piazza Fontana eccetera e quindi il governo pare che si sta impegnando a desegretare una serie di documenti che prima erano segreti però dopo 70 anni io direi che sia i documenti italiani che quelli stranieri potremmo magari conoscerli questo mio lavoro serve a questo insomma suscitare interesse la voglia di conoscere la verità su questi fatti e poi veniamo all'evento cruciale della nostra storia cioè l'uccisione di Medito Mussolini e Claretta Petacci allora veniamo a questa versione ufficiale si incarica questo partigiano Walter Audizio chiamato colonnello Valerio di andare a prendere Mussolini con la sua scorta con altri partigiani lui parte da Milano la mattina il 28 aprile arriva a Como in prefettura per chiedere informazioni ai partigiani del luogo per sapere dove era nascosto Mussolini perché lui non lo sapeva i partigiani del luogo hanno delle difficoltà a riconoscere Walter Audizio come autorità di colui incaricato dal CLN dal corpo volontario della libertà per recuperare Mussolini e la prendere e quindi saluta la mattina in prefettura a dire io devo andare a prendere datemi aiuto dove Mussolini poi deve telefonare a Milano per avere la conferma insomma per farsi riconoscere come autorità di colui incaricato andare a prendere Mussolini alla fine ci riesce e arriva a Dongo nel pomeriggio alle 14.30 e da lì parte per andare a casa di Dea Maria abbiamo detto che Mussolini Cretta Petacci era rinchiuso in una camera a casa di Dea Maria a Bonzanigo di Tremezzina chiaramente era accompagnato da Michele Moretti il ruolo personaggio fondamentale che è il commissario politico della 52esima brigata Garibaldi di orientamento comunista lui quindi si propostava comunista dietro la seguida che sapeva dove era la casa questa casa di Dea Maria andò a casa di Dea Maria e arrivò verso le 16 quindi Walter Audisio entrò nella stanza prelevò Mussolini da Petacci fecero qualche decina di metri a piedi salirono su una macchina e poi Walter Audisio disse l'autista fermati qua aveva deciso il posto doveva uccidere Benito Mussolini che era davanti al cancello di Villa Belmonte una villa insomma una bella villa un po' isolata da quelle parti fece scendere Benito Mussolini a carità Petacci con il suo mitra spianato cercò di premere il grilletto ma questo mitra i colpi compasso prima gli lesse quelle famose perfrasi per ordine del comando generale del corpo volontario della libertà rendo giustizia al popolo italiano questa mi sembra che è la frase famosa che adesso ho detto un po' no no ma esatto quello che dice ecco sta di fatto che i colpi non partono il mitra Mass si è rinceppato chiede di scambiare il suo mitra con Michele Moretti che era un po' decine di metri più su per vedere se non arrivava persone e con questo nuovo mitra spara i cinque colpi a Mussolini e la Petacci che muoiono a distanza di qualche metro allora questa in sintesi insomma la Petacci muore dopo quindi ha la possibilità prima muore è venuto Mussolini dopo lei Walter Rodisi dice si muove quindi è colpita anche lei e cadde questa è in estrema sintesi la versione ufficiale che si è tramandata che Walter Rodisi riportata in un libro in nome del popolo italiano scritto agli anni 70 però a ben vedere questa versione così detta anche magari in estrema sintesi però noi diciamo che ci sono degli elementi che la contraddicono questa versione ufficiale perché? allora adesso li vediamo sono diversi intanto intanto sembra strano che Mussolini arrivati a questa casa di Dea Maria nella notte del 27 e il 28 aprile rimane lì solo con due partigiani Sandrellino da guardia davanti alla porta quindi da diciamo le due delle mattine del 28 aprile fino alle 16 quando arriva Walter Rodisi tutto questo periodo ci sono solo due partigiani a guardia di Benito Mussolini sembra un po' strano che ne sono andate a controllare o verificare questo è un piccolo elemento poi l'autopsia fatta su Benito Mussolini il giorno dopo a Milano dice che non aveva tracce di cibo nello stomaco è strano perché se lui è morto alle 16 è evidente che doveva aver pranzato d'altronde ci sono delle fonti resistenziali di quell'epoca che dicono che lui i coniugi di Maria portarono qualcosa da mangiare a Benito Mussolini e a Capetacci quindi infatti è strano che dalla mattina diciamo a pranzo non mangio niente altro elemento che smentisce in qualche modo la versione ufficiale poi il numero dei colpi l'autopsia dice che Mussolini viene colpito da 9 colpi di proiettile Walter Odisio dice che sparò 5 colpi il calibro questo è importante il calibro dei proiettili il MAS è un fucile emettatore con calibro 7,65 e invece i fori sul corpo di Mussolini ci dicono che il proiettile aveva calibro 9 era cambiato arma perché gli si era incipato no perché Michele Moretti aveva sempre il MAS sempre lo stesso MAS con lo stesso è un tipo di emettatore che ha il calibro 7,65 insomma sono tutti uguali quindi il calibro discorda poi cosa possiamo dire c'è una testimonianza di una signora Dorina Mazzolac a quell'epoca era giovane e abitava vicino ai casi di Maria che invece sente il mattino dei colpi provenire dalla casa di De Maria dei colpi di pistola dei colpi di arma da fuoco urla dei coniugi marito e moglie che urlano come per dire cosa è successo e una donna che si affaccia ad una finestra della camera immagino dove era custodito Pedro Mazzolini che chiede aiuto quindi questa donna asserisce che ci sono stati dei colpi il mattino a casa di De Maria e quindi Mazzolini non poteva essere stato ucciso da Walter Odisio il pomeriggio davanti al cancello di questa villa Belmonte poi ci sono state fatte altre analisi di recente attraverso un gruppo di scienziati con le tecnologie moderne indagando le fotografie di Mazzolini Petacci a Piazza Leoretta a Milano che sono stati portati lì appesi eccetera allora hanno visto strumenti diciamo informatici e tecnologici di oggi che sulla maglietta di Mazzolini ci sono i classici aloni di polvere da sparo in combusta questo però avviene se si spara a una distanza minore di 50 cm mentre Walter Odisio dice che ha sparato a diversi passi di distanza poi altro elemento che il cappotto che Mussolini aveva a Milano un cappotto strano in forma di più moderno tipo raglan cosiddetto non presentava fuori di proiettile ora è strano che se Mussolini prelevato dalla camera uscì come è da resoconto ufficiale con un un cappotto diciamo no è strano che su questo cappotto non ci sono non ci sono segni di fori di proiettile altro elemento che in qualche modo contraddice questa versione ufficiale quindi ecco tutti questi elementi che messi insieme direi che smentiscono un po' la versione ufficiale tra l'altro adesso un'ultima cosa che mi viene in mente in una pagina del libro di Walter Odisio che è questo non so vabbè se si vede questa è la zona fotocopia ecco questa è questa è la copertina magari chiedete una fotocopia allora una certa pagina lui dice che facciamo per chi ci segue streaming sì 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 beh certo uscì da questa camera dei casi di Maria molto velocemente come se camminasse in modo che marciasse poi invece sempre nella stessa pagina dice che quando è sceso dalla macchina per andare davanti al cancello di Villa Belmonte camminò male con la gamba il piede destro come se lo trascinasse perché Walter Odisio dice c'era lo stivale destro sdrucido e rotto rovinato allora anche qui c'è una contraddizione è possibile che Mussolini in questo poco all'asso di tempo tra quando esce dalla stanza monta sulla macchina scende dalla macchina gli si rompe lo stivale destro no quindi anche qui è una piccola contraddizione stessa nel racconto di Walter Odisio quindi ecco messi insieme questi elementi noi diciamo questa versione di Walter Odisio fa acqua un po' a tutte le parti visto anche queste ultime ricerche di questi scienziati che hanno visto queste fotografie di Piazzale di Loreto e quindi noi diciamo che questa versione non può essere la verità di come è stato ucciso e da chi è venuto un Mussolini nella carretta a petacci c'è un'altra verità che si è tenuta nascosta ma perché probabilmente è che il racconto di Odisio come dicevi all'inizio insomma porta in luce il valore resistenziale di colui che in nome del popolo italiano uccide il criminale di guerra e lo fa vedere come una persona vile eccetera ma forse probabilmente dico io la verità è un'altra e io credo gli italiani insomma sia opportuno anche qui dopo 70 anni far conoscere la verità su questi fatti insomma tra l'altro qualche tempo fa anche in televisione ci hanno fatto una trasmissione su un canale privato diciamo quale proprio su queste vicende proprio di come è stato ucciso il Mussolini della Petacci loro idongo eccetera quindi poi i libri ricerche su questi argomenti continuano e io do il mio contributo di verità spero senti Renato intanto adesso ho liberato la linea telefonica perché per i pochi minuti che ci restano a disposizione se volete soddisfare qualche curiosità o fare delle domande a Renato io ce n'ho una quanto tempo è passato dal fatto che è stato riconosciuto Benito Mussolini presente in quel convoglio tedesco e dalla sua morte allora lui venne arrestato il pomeriggio del 27 aprile 1945 è morto il 28 è morto il 28 il giorno dopo perché è stato portato nella notte tra il 27 e il 28 a casa appunto di questi coniugi ecco in queste 24 ore io vorrei sapere ma lo Stato dove era lo Stato italiano lo Stato si può dire che non c'era no nel senso che per esempio c'era un governo in Italia e c'erano le forze perché allora intanto ufficialmente l'Italia sarà liberata il 25 aprile del 45 si però la stazione dei Carabinieri adesso dico una stupidaggine a Dongo ci sarà stata pure rappresenta lo Stato e la legalità no non è mai non sono mai intervenuti è funzionale a cosa questa tua domanda a sapere cosa sapere se si conosceva che c'era a Dongo Mussolini se qualcuno fosse stato mai interessato come Stato italiano a diciamo così ad intervenire perché lasciarli in mano solo ai partigiani e poi quella brigata partigiana beh brigata partigiana perché chiaramente insisteva in quel territorio come sai in ogni territorio italiano c'erano i vari brigati partigiani che avevano un territorio di competenza sì ma c'era stata una stazione di Carabinieri una stazione di polizia tanto lo Stato italiano c'era la polizia forse non c'era c'era la stazione dei Carabinieri c'era forse erano fuggite i Carabinieri ma dico adesso una cosa però ecco io ho buttato là per Carabinieri pronto? sì buonasera ciao se puoi mettere la cuffia Renato mi senti? sì un attimo ecco vai vai sì no saluto il signor Dondini sono Giorgio sì molto interessante la sua la sua ricerca sento una cosa io volevo fare un po' la domanda che ha fatto Asperio ci aggiungo una cosa dopo appunto che la morte di Mussolini chi è che ha deciso di gettare in pasto a non so se iene o leoni scendete voi l'animale cioè portarlo a piazza Leoretto esatto e far fare quello che è successo chi è che ha deciso chi è che aveva il potere di dire no adesso il corpo verrà seppellito allora allora domanda interessante grazie Giorgio grazie anche perché scusa Renato dalla morte a piazzare Leoretto adesso io non passano il giorno dopo il giorno dopo il giorno dopo il 29 ci fu l'autopsia e dopo credo che sia portato quindi ci fu tutta l'autopsia lo fa un'autorità certo il medico legale si dette l'autorizzazione a esporre il cadavere di Mussolini e della Petacci sono due cose diverse quella è in maniera ignobile il discorso è l'autopsia che comunque si deve fare tra l'altro non si è fatta sul corpo della Petacci va bene perché si teneva forse meno importante eccetera un discorso poi è averlo appeso a testa in giù insomma lì a piazzale Leoretto sono due cose distinte quindi l'autopsia si doveva fare anche per appurare in qualche modo era da prassi insomma morte violente credo che ci sia delle leggi specifiche che lo impongono per quanto riguarda il discorso di piazzale Leoretto beh qui adesso di preciso chi l'abbia deciso chiaramente io non devo dire la verità non lo so è evidente che lì c'erano dei capi partigiani che ma comandavano loro in quella fase sì quindi non ci fu neanche un accertamento da parte dello Stato italiano su chi l'ha ucciso perché senza processo è comunque un micidio anche se siamo in periodo di guerra devi sapere che in quel periodo lo Stato c'era e non c'era comandavano in quel caso le forze partigiane che e il CLN comunque c'era anche l'esercito italiano che avanzava timidamente insieme a quello americano no no la guerra era finita la guerra era finita il 25 aprile 45 ufficialmente come sai c'erano le truppe in casa sì sì gli angloamericani allora il discorso interessante intanto c'è da fare una piccola premessa nell'armistizio lungo che il governo Badoia aveva stipulato che gli angloamericani c'era un accordo che Mussolini doveva essere processato in un processo tipo Norimberga sotto l'ecita dell'ONU ok e Mussolini sperava in quello perché lì poteva eventualmente dire la sua in qualche modo discolparsi di alcune no di alcune cose che venivano attribuite e quindi magari gli americani volevano processarlo gli inglesi invece da quello che abbiamo detto volevano il contrario volevano ucciderlo prima possibile per non farlo parlare e impossessarsi delle sue carte tant'è vero che nelle ricerche storiche ultime degli ultimi anni c'è la cosiddetta pista inglese c'è un certo Luciano Caribaldi scrittore giornalista che ha scritto un libro proprio la pista inglese dove afferma che sono stati gli inglesi che hanno dato in qualche modo il là ai partigiani a dire andate a prendere a uccidere Mussolini non è da bar oppure c'è degli elementi di agganci anche di personaggi che avrebbero compiuto questa operazione anche qui è un'ipotesi forse il colpo che ha freddato Mussolini molto ravvicinato come tu dicevi perché c'era la polvere sulla maglietta potrebbe dare l'intendere di una persona alla 007 diciamo così più che da una fucilazione allora infatti come dicevo la versione ufficiale o comunque tramandata è quella di Walter Udizio non regge anche un punto di vista d'orario come abbiamo detto lui dice che l'ha ucciso alle 16 e 30 però dagli elementi di cui abbiamo parlato sembrerebbe che sia stato ucciso prima e questa valora la tesi del fatto che gli inglesi volevano trovarlo e ucciderlo il prima possibile e poi l'hanno lasciato ai partigiani e poi l'hanno lasciato ai partigiani per dire esso pensateci voi fatelo morire come volete l'hanno lasciato l'hanno fatto trovare morto ecco i scenati allora è evidente che coloro che sono andati a prendere in una stanza Mussolini erano dei partigiani c'era adesso faccio delle supposizioni però magari come dire comandati tra virgolette dai servizi segreti inglesi che lo volevano morto il prima possibile per non farlo parlare anche perché come abbiamo detto in questo caos generale le forze americani in particolar modo stavano raggiungendo quelle zone e allora se magari trovavano Mussolini visto gli accordi dell'amistizio lungo avrebbero potuto dire no adesso l'abbiamo preso noi e lo processiamo gli inglesi invece non volevano secondo questa nostra questa mia ipotesi e quindi ecco se si collega si collega un po' un po' tutto e forse perché volevano arrivare ancora prima che altri si potessero impossessare magari dei documenti che potevano essere compromettenti quindi già Cerci l'aveva messo magari sulle tracce di Mussolini qualche suo uomo però adesso lasciamo anche correre questa ipotesi che non è per nulla peregrina dici tu no? si guarda le ipotesi sono diverse perché per esempio in base a questo accordo ammestizio lungo l'idea era quella di portare Mussolini verso Milano e consegnare gli angloamericani però si doveva passare attraverso una barca il lago di Como tant'è vero che Luigi Canali dice io ho portato Mussolini da Dongo verso sud Dongo perché sta al nord del lago verso Como verso sud a Moltrasio da lì doveva arrivare una barca per prendere Mussolini e portarlo agli americani questa barca non è arrivata o l'ultimo l'aspettata e allora portò Mussolini e la Petacci a casa a Ide Maria e quindi trovò quest'altra opzione per nascondere questa versione Canali ha detto prima di scomparire sì prima di scomparire ma è testimoniata anche da altri insomma da altri quindi comunque è affascinante affascinante come affascinante sa perché anche intorno a Hitler c'è il mistero della sua morte no? no beh non c'è non c'è il mistero è stato no e poi è vero che morì in quel bunker lui assolutamente sì su questo che ci sono testimonianze tutti quanti sì questo questo non c'è dubbio il dubbio è su Mussolini e lui si fece sparare Hitler mentre gli altri avvelenarono era una cosa dunque adesso non mi ricordo se prese una pasticca di veleno sì adesso sinceramente non mi ricordo non vorrei adesso dire poi che fu una cosa anche quella tragica perché fu un suicidio di massa diciamo in quel bunker molti altri personaggi insieme a Hitler la sua diciamo si corte venne fatta fuori comunque sì alcuni riuscirono a fuggire a fuggire diversi andarono in Sud America alcuni poi vennero scoperti altri altri no però insomma ecco io mi sono concentrato su queste vicende italiane di Mussolini perché fin da piccolo insomma l'autore diciamo così che sul quale hai studiato un po' di più e che ha fatto delle ricerche abbastanza approfondite e che ha descritto o ha parlato della morte di Mussolini su queste vicende hanno parlato tutti tutti i partigiani esponenti politici insomma ognuno infatti su queste vicende ognuno ha dato la sua versione quindi ci sono decine di versioni diverse però ecco quella più prevalente diciamo chiamiamola ufficiale come ho già detto è questa di Walter Audisio con Nello Valerio che all'inizio poi non si sapeva chi era perché Walter Audisio fa questa confessione naturalmente se non fosse stato lui se diversamente è avvenuta la morte di Mussolini lui si è prestato diciamo a fare il protagonista ecco forse si è prestato si è prestato a fare il protagonista anche se non lo è stato del suo partito quindi lui per prendersi questo onore non c'è nulla da dire su questa vicenda allora secondo me qualcosa sapeva sicuramente sapeva come sono delle cose però come abbiamo detto scoperchiare la verità su un elemento doveva poi dire allora perché non dici quest'altra cosa che ti va a favore o a sfavore insomma quindi queste sono tre cose collegate quindi ecco c'è stata secondo me una omertà di nascondere la verità perché faceva comodo un po' a tutti subito dopo la guerra diciamo che l'Italia non ha fatto i conti fino in fondo con il suo passato si è voluto e cercato di dire vabbè ricostruiamo il paese però queste ferite sono ancora aperte no come si dice a volte gli scheletri nell'armadio poi insomma si fanno sempre avanti e condizionano hanno condizionato la vita politica italiana d'altronde vabbè si sa che l'Italia perlomeno la prima repubblica è stata un paese a solennità limitata e questo spiega tante cose beh sì gli americani pure non hanno rivestito nessun ruolo in questo frangente secondo te no il ruolo prevalente l'ha svolto i partigiani appunto della 52esima pericata Luigi Clerici gli inglesi e gli americani sono stati un po' fuori perché gli attori principali era l'Inghilterra e Churchill che erano interessati in particolar modo a questo carteggio a questo carteggio e fare in modo che magari Mussolini non parlasse davanti a un tribunale un processo come è avvenuto per i criminali nazisti a Norimberga anche se vabbè Hitler chiaramente era già morto però lì c'erano insomma dei generali c'era degli esponenti nazisti che sono stati diciamo processati secondo me si doveva fare questo anche per Mussolini in suo seguito però insomma adesso con il senno del poi bisogna contestualizzare sempre gli eventi insomma benissimo tu con questo chiudiamo hai intenzione diciamo così di sollevare sollecitare non tanto la curiosità ma la pretesa di la pretesa di conoscere questa eh sì certo certo e quindi di fare chiarezza e questo lo si può muovendo quelle pedine importanti che possono avere quell'autorità per andare a scovare laddove c'è qualche documento che possa essere ma intanto ma non è una ricerca a caso diciamo così che può uscire fuori questo documento questi mutualmente sono depositati da qualche parte certo certo insomma negli archivi segreti dei vari stati però io credo che se c'è la volontà popolare dei cittadini una coscienza dell'importanza di conoscere questi fatti poi insomma da cosa nasce cosa anche le stesse istituzioni degli istituti storici della resistenza per esempio potrebbero essere interessati a scoprire questa verità la stessa associazione ampia associazione nazionale dei partiziani italiani ecco insomma credo che io secondo me ancora il fascismo fa paura in Italia nel senso che ancora molto giochiamo o giochiamo molto si si contrasta fra quelli che sono le tentazioni di ristabilire una destra fascisti in Italia e quelli che invece ostano contro questo tipo di disegno ma questo nasce anche perché è una verità che non è anche perché la verità non si è appurata definitivamente ecco perché c'è questo ancora di atriba fascismo antifascismo si deve conoscere la verità fino in fondo anche se è scomoda per esempio Ernesto Galilea Loggia in suo libro La morte della patria dove parla l'8 settembre dice che tra le altre cose chiaramente ma questa è una cosa che mi viene in mente adesso la resistenza è stata mitizzata nel dopoguerra perché faceva gioco sia a livello internazionale che a livello interno a livello internazionale perché faceva vedere l'Italia come vincitrice della guerra e a livello interno per farsi scolpare gli italiani dal fatto che sono stati diciamo fascisti fino all'ultimo ma non si sono diciamo ribellati prima al fascismo come magari potevano potevano fare insomma quindi la resistenza in qualche modo si è si è mitizzata anche se io poi ho fatto anche una test sulle resistenze in maceratese però l'ho interpretata come guerra civile anche qui questo termine guerra civile prima non veniva accettato adesso insomma è stato prima si veniva rifiutato adesso è stato accettato altronde insomma la mia tesi di laurea i giovani dall'una dall'altra parte erano sempre italiani o erano ruolati nella Repubblica di Salò oppure erano partigiani e stavano nell'esercito italiano magari che poi si è trovato l'8 settembre a dovere fronteggiare un nemico diverso da quello che era prima c'è veramente la nostra storia però bisogna assolutamente trovare la verità che poi aiuta anche secondo me anche a superare molti molti tabù e molte paure che ci sono molti ruggini molti contrasti perché tanto la verità una volta stabilita aiuta poi a trovare la strada giusta per tutti io ti ringrazio Astero perché poi questa è in qualche modo una presentazione di questo mio lavoro perché la mia intenzione è quella di magari presentare in incontri pubblici con magari delle associazioni istituti che magari si occupano di storia ma semplici anche magari circoli culturali che vogliono ascoltare questo racconto tra l'altro che ecco adiuvato qui in radio non siamo riusciti chiaramente a vedere attraverso delle video delle immagini che aiutano a capire gli eventi di cui sto parlando insomma quindi ti ringrazio no anche perché con te ho ripassato una pagina di storia che a volte sai a pezzi a bocconi qua e là magari tramite dei servizi che magari hai avuto modo sono molto interessanti i servizi di storia che a volte rai tre pure fa o altri e che sono delle ricostruzioni diciamo di avvenimenti sui quali ancora magari non sia tutta la verità purtroppo benissimo io ti ringrazio ti auguro ti ringrazio a te a stereo e alla radio di avere fortuna in questo perché è un po' conoscere questa pagina penso che è di soddisfazione un po' di tutti anche la mia è una curiosità grossa non te lo nascondo benissimo a te grazie buona serata grazie a tutti